Molte grazie, grazie per il vostro affetto, grazie per questi applausi, il Signore me l'aveva promesso, sapete che il Signore mi ha promesso questa benedizione, me lo disse circa più o meno vent'anni fa, il Signore mi diceva che mi avrebbero applaudito tantissimo, ti faranno degli applausi, mi disse e in quel tempo io andavo in chiesa e i fratelli ogni tanto mi applaudivano, a me non piaceva perché ero molto timida e non mi piaceva, mi sentivo a disagio con quegli applausi e pensavo che era fratello Carlo Salberto che insegnava alla congregazione di applaudire quando io arrivavo, allora io lo rimproveravo e dicevo al fratello non dire alle persone di applaudirmi, io non voglio e il fratello mi diceva ma io non ho detto niente sorella, allora perché? Perché quando vado in chiesa mi applaudono, io non voglio e io lottai, dicevo no no non voglio, non voglio, fino a quando mi ricordai della profezia di quello che il Signore mi aveva detto, ah certo il Signore me l'ha detto e adesso sta compiendo la promessa perciò non devo più discutere con la promessa del Signore e accettai, così accettai gli applausi, voi non potete capire quanto, quanto fosse a disagio a causa della mia timidezza e io mi sento indegna di questo, però è così, il Signore me l'ha promesso, io ricevo gli applausi con affetto, solamente che io sono timida e non merito gli applausi, ma Dio l'ha detto e quindi si compie la parola del Signore, perché il Signore promette la sua parola, è l'ultima parola appunto, bene che Dio vi benedica tutti i miei cari fratelli e sorelle, che il Signore benedica tutti coloro che sono in chiesa adesso e che si stanno congregando, non solamente qui negli Stati Uniti, ma anche in Sud America, Centro America, Messico, Europa, sono connessi insieme a noi anche in Europa e lì sono le diciassette, le cinque del pomeriggio quindi, un saluto per tutti voi, miei cari fratelli e sorelle, non vi preoccupate voi fratelli d'Europa, perché quando passerà e torneremo tutti alla normalità, allora anche voi avrete solitamente i vostri orari quotidiani, avrete il culto la domenica alle dieci o le undici di mattina in Europa. Per ora dobbiamo approfittare di questi insegnamenti, perché vi dico che anch'io sto imparando molto, anzi sono quella che impara di più, è qualcosa di affascinante quello che è successo durante la pandemia a livello di insegnamento, certo è venuta la pandemia ma ci ha portato anche una ricchezza spirituale anche, soprattutto una ricchezza spirituale, una crescita, una maturità e questo è molto bello e io mi sento molto felice ogni volta che io sono qui con la Bibbia aperta di fronte a tutti voi, siete migliaia in questo momento che siete connessi, è domenica e poi anche durante la settimana altri fratelli e sorelle vedono gli insegnamenti e io sono molto contenta perché voi state approfittando di questi momenti al massimo per imparare la dottrina, per metterla in pratica e per onorare il Signore e oggi con il cuore sempre pieno di allegria potete sedervi fratelli e sorelle e canteremo al Signore l'inno come di consueto prima di iniziare appunto con l'insegnamento che ci corrisponde quest'oggi e cantiamo al Signore l'inno numero 65 che si intitola Vieni senza tardare, questo è un invito, un invito che è per tutte le persone, si invitano le persone a venire alla presenza del Signore, ai Suoi cammini, ai piedi del Signore per venerarlo, per seguirlo e un giorno così ottenere la vita eterna tramite Lui, quindi vieni senza tardare, non tardate, avvicinatevi al Signore Oh no rechazzis la verda, tus ojos hoy abri a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Oh no rechazzis la verda, no tardare, avvicinatevi al Signore, ai piedi di tutto il 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 Signore a tutti i No más aquí contemplarán Hoy es el día de salvación Oh, ven a Jesús Oh, ven sin tardar Oh, ven sin tardar Acepta a Jesús Y salvo serás Jesús se tiene compasión Con que su amor le pagarás Hoy trae a Él tu razón Y salvo serás Oh, ven sin tardar Oh, ven sin tardar Acepta a Jesús Y salvo serás Jesús recibe al pecador Que quiera a Él su alma unir Ya no desprecien más su amor Oh, ven a Jesús Oh, ven sin tardar Oh, ven sin tardar Acepta a Jesús Y salvo serás Y salvo serás Acepta a Jesús 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 Signore questo cammino. Cosicché possiamo evitare i disastri, tutte quelle cose dure, difficili che l'essere umano deve affrontare. A volte l'essere umano si sente senza via di uscita, senza nessuno che lo consoli, che lo aiuti, non sa nemmeno cosa fare nella vita, non sa dove andare, a chi ricorrere. Ma siccome noi abbiamo imparato e stiamo imparando questo cammino meraviglioso della fede, del Signore, questo cammino che ci permette di credere nel Vangelo, allora noi desideriamo con tutto il cuore che voi, soprattutto persone nuove, recenti o per la prima volta, vi auguriamo di disporre il cuore e di confidare nel Signore, affinché anche voi possiate vivere questo Dio potente che vi guidi e che ci conduca in un bel cammino. Questo Dio, Lui ci aiuta e vi vuole aiutare, vuole aiutare anche voi, affinché voi non viviate amareggiati nella vostra vita e non facciate soffrire i vostri cari familiari. E noi siamo qui lottando, predicando questo, predicando in un modo o nell'altro e grazie la tecnologia, possiamo evangelizzare al mondo intero attraverso appunto Internet. E l'Apostolo Paolo, chissà se avesse avuto questa opportunità come avrebbe fatto in quell'epoca, sicuramente tutto il mondo si sarebbe convertito al Vangelo con gli insegnamenti di Paolo, direttamente insegnato da Dio. Però la tecnologia, cioè questa fortuna, era destinata a noi. Ecco perché noi dobbiamo approfittare di tutto quello che il Signore ci dà per predicare la Sua parola. Quindi voi recenti e coloro che si stanno collegando per la prima volta, non disprezzate quello che il Signore ci sta offrendo. Non siate increduli. Imparate a leggere la Bibbia, a pregare, a dirigervi a Dio come uno spirito, chiudendo i vostri occhi, parlandogli, perché Lui vi ascolterà e vedrete come Dio vi ascolterà e vi aiuterà. Ci sono anche tante persone che assistono in chiesa da anni, cinque, sette anni, e mi dicono che Dio non li ascolta. Queste persone mi dicono che non vogliono più neanche ascoltare le testimonianze perché sentono gelosia e invidia, perché dicono perché il Signore benedice gli altri e non noi. Allora io consiglio a voi di non sentire questa invidia, di non nascondervi perché Dio ama anche voi. Andate avanti, continuate a parlare al Signore ma in modo saggio perché sicuramente non avete avuto saggezza per pregare al Signore e a volte magari non l'avete fatto in modo sincero, allora il Signore non vi ascolta. Ma se voi siete sinceri, Dio immediatamente vi risponde, vi tende la mano e vi aiuta perché il Signore non disprezza la preghiera di coloro che hanno bisogno. Lui è attento a tutti, perciò andate avanti. Capitolo 5 della seconda epistola ai Corinzi. Abbiamo letto nel capitolo 4 il verso 18 e qui l'Apostolo Paolo diceva che noi non dobbiamo guardare le cose che si vedono, porre il nostro cuore nelle cose che si vedono e preoccuparci, ma dobbiamo porre il nostro cuore a quelle che non si vedono. E cos'è che non si vede? Il tesoro, quel tesoro che Dio ha posto in vasi di terra, come ci dice il verso 7. E noi siamo con i vasi di terra e il tesoro è il Vangelo, la buona novella del Signore, la parola di Dio, la manifestazione dello Spirito Santo. Questo è il grande tesoro che Dio ha posto in vasi di terra, cioè nei nostri cuori, nel nostro corpo fisico. E l'Apostolo parlava e diceva appunto che bisognava credere, apprezzare questo e andare avanti. Ecco perché nel 18 diceva di non guardare le cose che si vedono, ma quelle che non si vedono, cioè le promesse. Cos'è che non vediamo noi? Le promesse di Dio al momento, perché Lui ce le promette appunto, poi ci dice vai avanti, compimi i comandamenti, non praticare il peccato e vedrai come io ti darò la vita eterna. E la vita eterna si tratta di vivere in una città bella fatta di pietre preziose dove regna solo la felicità, la pace, l'allegria e lì sia tutto. Staremo col Signore, questa è la grande promessa di Dio e questa ovviamente non la vediamo. Cos'è che vediamo noi? Con gli occhi vediamo, sì, la gente, vediamo le piante, tutto a livello fisico. Ma qui l'Apostolo Paolo diceva, dobbiamo guardare le cose che non si vedono, cioè le promesse, la vita eterna. Questo diceva l'Apostolo Paolo, mentre le cose che si vedono sono solo per un tempo, che non dobbiamo guardare le cose che si vedono, ma le cose che non si vedono e cioè che sono le promesse di Dio. Perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne, cioè la vita eterna, quello che Dio ha per noi nell'eternità. Questo è eterno. 5 verso 1. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, dice l'abitazione terrena è il nostro fisico. E se questa nostra abitazione terrena viene disfatta, ed è logico perché è invecchia, noi abbiamo da parte di Dio, invece, un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Gloria al Signore. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Dice che noi desideriamo con tutto il nostro cuore di poter godere un giorno di quella casa o di quell'abitazione celeste che Dio ha preparato per noi. E così noi saremo rivestiti e non saremo nudi, come dice il verso 3. In questo mondo, sulla terra, mentre noi viviamo in questo corpo fisico, noi dobbiamo essere vestiti. Certo, noi siamo vestiti, vestiamo il nostro corpo. E anche la nostra vita spirituale si veste con il Signore. Infatti il Signore ci pone delle vesti bianche. Sono le nostre vesti spirituali fatti dei valori, dei doni spirituali, dei frutti. Questi sono i nostri vestiti spirituali. E il Signore vuole che noi siamo vestiti spiritualmente e non nudi. Ecco perché ci sono persone che sognano qualcuno che è nudo, che non è vestito. E questo sogno significa che è una nudità spirituale, che quella persona sta peccando. È una persona certo, parliamo di credenti della Chiesa. Non parliamo delle persone che non vengono in Chiesa, ma delle stesse persone che vengono in Chiesa e dicono, io ho visto quel fratello, quella sorella in sogno e l'ho visto o l'ho vista nudo o nuda, senza vestiti appunto. Questo significa che si sta peccando e che la vita spirituale non sta progredendo. E Dio sta mostrando appunto in sogno che quella persona sta vivendo nel peccato. Perciò si hanno questi sogni. Questa è la corretta interpretazione. E noi, continuamente, a livello spirituale, dobbiamo essere sempre vestiti. E lui, il Signore, ci pone una veste bianca. Il Signore, o lo Spirito Santo, dice molte volte ad alcune persone. Per esempio, può dire, quella persona ha il vestito macchiato. Cosa vuol dire? Un vestito macchiato? Un vestito rovinato, stropicciato? Questo ha un significato spirituale. È una simbologia della vita spirituale. Quindi, il Signore dà questo dono dei sogni affinché fratelli e sorelle possano sognare la condizione spirituale di altri fratelli e sorelle, per poi raccontare a questi fratelli e sorelle il sogno. E dire, cerca di essere al passo col Signore nella tua vita spirituale, perché il Signore mi ha mostrato questo in sogno. Ecco, questo è il dono dell'interpretazione dei sogni. E qui, chiaramente, dice che noi dobbiamo avere un vestito molto speciale addosso e che dobbiamo essere vestiti di continuo. Quindi, verso 3 dice, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Noi, infatti, che siamo in questa tenda, cioè nel frattempo che siamo nel nostro corpo, gemiamo, essendo aggravati. E perciò non desideriamo di essere spugliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Questo verso significa che noi che siamo in questo corpo, in questa tenda, non vogliamo essere spogliati, ma rivestiti, affinché la nostra parte mortale sia assorbita dalla nostra vita, dalla vita eterna. Quindi, la nostra vita spirituale, il nostro spirito, deve essere ben vestito, perché è parte della promessa che Dio ci ha fatto. Noi dobbiamo essere vestiti e non spogliati, perché se non camminiamo bene nelle vie del Signore, non otterremo la vita eterna. Tantomeno abiteremo in quei luoghi celesti che il Signore ha per i Suoi figli. Perciò rileggo il verso 4. Noi, infatti, che siamo in questa tenda, cioè nel nostro corpo, gemiamo, essendo aggravati. E perciò non desideriamo di essere spogliati, ma desideriamo essere rivestiti del potere di Dio. Rivestiti affinché ciò che è mortale, cioè quello che termina, tutto quello che finisce, sia, potremmo dire, cambiato, sia assorbito dalla vita, dalla vita eterna che Dio ha preparato per noi in futuro. Quindi noi dobbiamo lottare per ottenere una vita spirituale. Noi certo siamo fatti di carne e stiamo lottando, ma la nostra vita spirituale o il nostro spirito deve essere vestito, perché Dio vuole questo. E come si veste il nostro spirito? Quando noi ci pentiamo e ci allontaniamo dal peccato, quando noi seguiamo questa vita spirituale fino alla fine dei nostri giorni, camminando bene nelle vie del Signore. Così facendo siamo ben vestiti. E questa è la lotta che noi abbiamo. Ma chi ci veste? E dice nel verso 5 appunto, or colui che ci ha formati, cioè Dio, logicamente, proprio per questo è Dio, perché ci ha formati, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Dice quindi che il Signore ci ha dato la caparra dello Spirito Santo, affinché lo Spirito Santo viva dentro di noi, abiti nel nostro cuore. E che così facendo lo Spirito Santo ci veste, perché è Lui che ci veste. È lo Spirito Santo che ci mette addosso vestiti splendenti. E il Signore dice che ci cambia sempre di vestiti. Infatti, il Signore ci dice, io muterò i tuoi vestiti con nuove vesti. Perciò è lo Spirito Santo che compie quest'opera meravigliosa in noi. Lo Spirito Santo riveste un uomo o una donna quando essi dispongono il loro cuore per Dio e si propongono di cambiare, di abbandonare il peccato. E quando si propongono di abbandonare il peccato, allora si allontanano dal peccato e iniziano, con l'aiuto di Dio, a vivere una vita santa e retta. E lo Spirito Santo dimora in queste persone. E quando lo Spirito Santo entra nei cuori di quelle persone, allora quelle persone cominciano a dare i frutti e cominciano ad essere vestiti spiritualmente. Cominciano ad avere dei vestiti spirituali. E questa è la caparra che il Signore ha dato, che ha dato all'umanità per salvarsi, agli uomini, alle donne che ascoltano la parola di Dio e che vogliono salvarsi. Il Signore dice, «Credimi, vai avanti nel mio Vangelo, perché io ti trasformerò, ti rigenererò, ti cambierò, ti toglierò la tendenza che hai di peccare, ti pulirò. E se i tuoi vestiti sono macchiati e se sono rossi come la porpora, diventeranno bianchi come la lana». Ma il Signore ovviamente sta parlando di vesti spirituali e non fisiche. E infatti il Signore ha pulito le vesti di tante persone, persone che si sono convertite al Signore. Allora Lui a quel punto li riveste nuovamente e lo Spirito Santo comincia a dimorare nel cuore di quelle persone. Ecco perché qui l'Apostolo diceva nel verso 7 del capitolo 4, «Ma noi abbiamo questo tesoro in base di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi». Perciò Dio, il nostro Dio, si è umiliato, si è umiliato a venire a vivere con noi. E questa è un'umiliazione per Dio. Dio che abita tra di noi e ci dà una nuova vita, vestendoci con delle vesti splendenti, ma in cambio di che cosa? Della conversione, della sincerità davanti a Lui, dell'abbandono dei peccati. E dice quindi che ci dà la caparra, ci ha dato la caparra dello Spirito. 6. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione. Noi infatti non camminiamo secondo quello che vediamo fisicamente, ma camminiamo secondo la fede, cioè secondo quello che crediamo. Quella fede che ci dice di credere in qualcosa che non si vede, che non si vede. Quindi camminiamo infatti per fede e crediamo. E non camminiamo per quello che vediamo, ma camminiamo per quello che Dio ci ha promesso. Questa è la fede. 8. Ma siamo fiduciosi, abbiamo molto più caro di partire dal corpo e abitare con il Signore. E infatti l'Apostolo diceva, sarebbe meglio stare nel corpo spirituale, cioè stare col Signore, piuttosto che essere presenti nel corpo fisico, perché col corpo fisico soffriamo e dobbiamo tollerare tutto quello che il nemico fa contro di noi. Dobbiamo soffrire le malattie, le tribulazioni, le trappole, gli incidenti, i giorni brutti, i sequestri, le violenze. Ecco, il nemico fa tante cose. La povertà, la mancanza di lavoro, mancanza di comprensione, il disamore all'interno di una famiglia. Tutto questo è generato dal nemico nel nostro corpo. E qui l'Apostolo Paolo diceva, sarebbe meglio vivere nello Spirito, andare con Dio, stare con Dio piuttosto che stare nel corpo, nel corpo umano, in questo corpo fisico materiale. Ma siccome è un dovere nostro vivere la vita, essere qui sulla terra, perché dobbiamo conquistare tante anime per il Regno di Dio, allora noi dobbiamo essere uno strumento nelle mani di Dio. Ecco perché dobbiamo stare in questo corpo, in questa tenda fisica, terrena, vivere in questo corpo, ma lavorare per il Signore. E cos'è che voleva insegnarci l'Apostolo Paolo qui? Qual era la vita spirituale che lui ci stava insegnando? Molto bello, tra l'altro. Certo, molto bello, ma noi dobbiamo anche servire materialmente il Signore, fin tanto che noi siamo nel corpo fisico. Fin tanto che noi siamo in questo corpo, facciamo la volontà del Signore, cosicché Lui starà con noi e noi potremo compiere la volontà di Dio, i compromessi che Lui ci ha insegnato ed ha assegnato e contemporaneamente ottenere le benedizioni da parte del Signore e le sue promesse. Così come quelle persone che dicevano, io non ascolto neanche più le testimonianze perché sento invidia, perché Dio dà a tutti tranne a me. Ma sicuramente Dio darà a quelle persone, solamente che quelle persone non hanno una veste spirituale, magari sono nudi, quindi bisogna esaminarsi. Perché se si cammina nudi nella vita spirituale, allora il Signore non ci benedice. Verso 9 dice, perciò ci studiamo, cioè cerchiamo di essergli graditi al Signore, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi, infatti, dobbiamo vivere una vita gradevole nei confronti di Dio. 10. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la ritribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Ripeto, un giorno tutti noi appariremo, come dice Apocalisse, di fronte al tribunale del Signore, dove Lui ci giudicherà, aprirà il libro della vita e troverà la vita di ognuno di noi, leggerà quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto, quello che avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto. Ecco, lì c'è scritto tutto e Lui giudicherà in quel tribunale e ognuno, ogni essere, uomo o donna, riceverà in base a quello che ha fatto nella sua vita, in base alle sue opere, sia fatto del bene o sia fatto del male. Così, di conseguenza, riceverà la ricompensa di quello che ha fatto. E ecco perché noi dobbiamo lottare affinché i nostri frutti siano abbondanti e il Signore non debba dire niente di noi. E qui, secondo l'Apostolo Paolo, lui dice che bisogna continuare a vivere la vita, la vita in quel corpo fisico, materiale, per servire il Signore, prima di tutto a Lui. E poi vivere la vita come Dio vuole che noi la viviamo, riconoscendo quel Dio vero, apprezzandolo e tenendolo sempre in considerazione. Verso 11, qui dice, Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamogli uomini, ma siamo manifesti a Dio e spero che siamo manifesti anche le vostre coscienze, perché noi non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'opportunità di gloriarvi di noi affinché possiate rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Infatti si vede qui che l'Apostolo Paolo e tutti i suoi compagni, gli altri apostoli, lottavano tanto, avevano problemi, difficoltà e tribolazioni in quell'epoca, perché predicavano, sì, ma era difficile predicare in quel periodo, perché furono perseguitati. Verso 13, infatti se siamo fuori di senno, dicevano così degli Apostoli, lo siamo per Dio e se siamo di buon senno lo siamo per voi. Stavo dicendo così alle persone. voi avete ricevuto il beneficio della nostra predicazione e voi così ricevete benefici, miracoli, prodigi, segni a motivo della nostra predicazione, del nostro insegnamento. Quindi voi siete il frutto del nostro lavoro. Questo è quello che diceva l'Apostolo Paolo, diceva che la loro predicazione, nonostante le mille difficoltà, era una predicazione che dava benefici perché tante persone si convertivano e ricevevano miracoli da parte di Dio, nonostante gli Apostoli continuavano ad essere perseguitati dal nemico. Anche noi oggi in un modo o nell'altro il nemico ci perseguita. Noi siamo qui perché Dio fa tante meraviglie e noi gioiamo ascoltando le testimonianze di quando Dio fa miracoli alle persone, di quando Dio benedice, orienta, salva dalle catastrofi e tutto questo è meraviglioso. Sono meravigliose queste testimonianze. Per esempio la sorella che è stata salvata dall'inondazione tramite un sogno. Vedete, il Signore fa questo con le persone e questo produce felicità e noi desideriamo continuare a fare il nostro lavoro senza stancarci perché è un lavoro meraviglioso. E noi non dobbiamo aver paura del nemico, no, dobbiamo saperlo affrontare con saggezza, dottrina, fede, avendo fiducia in Dio. Verso 14 continua l'Apostolo Paolo a dire, poiché l'amore di Cristo ci costringe essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Vuol dire che noi nasciamo, viviamo, moriamo per Dio. Questo è quello che l'Apostolo Paolo stava spiegando, cioè dobbiamo vivere per Dio. 16. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Vuol dire che abbiamo conosciuto il Signore Gesù Cristo ma poi la vita è spirituale. Alcune persone dicono beati gli Apostoli perché hanno visto in carne ed ossa il Signore Gesù Cristo mentre noi oggi no. Ma l'Apostolo qui dice che non deve essere così. Anzi, dice che è meglio conoscere Dio, l'Onnipotente, in spirito e in verità, piuttosto che in una forma carnale come quelle che hanno conosciuto il Signore Gesù Cristo secondo la carne. Perché se si confida in Dio, se si ha fede, allora si va avanti. Perché la fede è credere nelle cose che non si vedono. Quindi la fede è la sostanza di qualcosa che non si vede. E questa è la cosa più importante. E a Dio piace che noi crediamo che abbiamo questa fede. Mentre nell'epoca antica ebbero anche la possibilità di vederlo. Ma nonostante questo, come per esempio l'Apostolo Tommaso, non credette. Infatti Tommaso disse, io prima di tutto devo mettere la mia mano nel suo costato, altrimenti io non crederò che è il Signore Gesù Cristo. Quindi quell'uomo, Tommaso, ha dubitato. E il Signore Gesù Cristo gli disse, perché non hai fiducia? Non credi in quello che tu vedi? Perché non hai creduto, non credi ai miracoli, ai prodigi che io ho fatto. Tu per credermi mi devi toccare? Quello era tentare il Signore. Ma Tommaso non credette. Noi invece abbiamo una fede spirituale. Crediamo nel Signore, anche se noi non l'abbiamo visto fisicamente. Non lo vediamo fisicamente, ma sentiamo Dio. Vediamo i Suoi miracoli, le Suoi meraviglie. Quando Dio, per esempio, parla ad una persona durante il sogno, ascolta la voce e dice, alzati perché guarda che sta per arrivare un'inondazione nella tua casa. Alzati, svegliati. Questa non è una meraviglia di Dio. Questo è il massimo che il Signore può fare nel cuore di una persona durante un sogno. Quella persona non vede fisicamente Dio. Ha sentito la presenza di Dio nel sogno. Il Signore ha parlato nel sogno. Ecco, così fa Dio. Lo Spirito Santo pure ci parla, usando un essere umano. E tutto quello che il Signore dice, Lui lo compie e noi lo viviamo, lo sentiamo. Ecco perché l'Apostolo Paolo apprezzava di più l'epoca della fede, piuttosto che l'epoca nella quale Gesù Cristo stette in carne ed ossa sulla terra. Era meglio forse non conoscerlo, perché se non lo si conosce fisicamente, la fede aumenta. Perché il Signore Gesù Cristo si era manifestato in quell'epoca, ma non lo apprezzarono. Anzi, tanti lo umiliarono, tanti lo disprezzarono. E poi dice nel verso 17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, le cose vecchie di una persona. Quindi se uno è in Cristo, vuol dire si converte al Signore, segue il Vangelo, diventa una nuova creatura. I suoi pensieri sono rinnovati, i suoi concetti, il suo cuore. Il concetto della vita cambia. È una persona che si converte a Dio. E dice, le cose vecchie sono passate, cioè la vita passata. Se era una persona che, per esempio, si ubriacava, era una persona alcolizzata, non beve più. Se era una persona drogata, non si droga più, perché il Signore l'ha liberata, l'ha cambiata. Se era un ladro, un omicida, non commette più queste cose, perché il Signore gliele ha tolte dal cuore, facendolo diventare una nuova creatura, un uomo nuovo, una donna nuova. Quindi le cose vecchie del passato sono appunto passate. Quella persona non beve più, quella persona non si droga più, non dice più parolacce, non è più una persona volgare, non è più una persona aggressiva. Quella era la vita vecchia. Poi rinasce quel Signore e non fa più quelle vecchie cose, perché è una nuova creatura, è un nuovo uomo o una nuova donna in Cristo Gesù. Quindi le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove quando le persone si convertono al Signore. Benedetto il Signore, ecco il Signore fa questo con noi. Tanti di noi sono cambiati. La nostra vita passata è appunto passata. Non c'è più, noi adesso siamo delle nuove creature nel Signore. Verso 18 dice, ora, tutte le cose sono da Dio. Certo, proviene ogni cosa da Dio, che ci ha riconciliati a se stesso per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Cosa vuol dire che Dio ci ha riconciliati a Lui? Vuol dire che il Signore Gesù Cristo, prima di arrivare in carne ed ossa sulla faccia della terra, prima di arrivare quindi come essere umano, Dio aveva rigettato il popolo di Israele. Dio lo aveva appunto rigettato per il peccato del popolo, si era dimenticato del popolo e appunto il popolo rimase senza Dio per tanti anni. Non ci furono più visioni, profeti, sogni. E la storia racconta che ci furono dei personaggi che arrivarono da Babilonia, deportati da Babilonia a Gerusalemme e furono lì appunto a Gerusalemme, arrivarono in questa città per ricostruire la città insieme a Zorobabele, Salatiele, la città che era stata incendiata appunto dall'esercito di Babilonia. Poi ritornarono dalla schiavitù e volevano ricostruire la città. E tutto questo durò per settant'anni. E Dio poi inviò dei personaggi a Gerusalemme per ricostruire la città come Ezra, Neemia, per restaurare la città. E la storia racconta che restaurarono la città e il Tempio. Ma Dio non si volle comunque manifestare. Non inviò infatti profeti. Non ci furono visioni, sogni, profezia. E passarono, come dice la storia, più o meno 430 anni senza la manifestazione di Dio fino a quando apparve Giovanni il Battista. Apparve Giovanni il Battista perché il Signore gli fece la chiamata e gli disse di cominciare a predicare, di predicare il pentimento perché poi sarebbe arrivato il Messia, il Salvatore, il Signore Gesù Cristo che avrebbe incontrato le persone in carne ed ossa ma se le avesse trovato nuovamente nel peccato allora non le avrebbe più salvate. Così Giovanni il Battista comincia a predicare, insegnare, battezzare affinché le persone potessero pentirsi e riconoscere i propri peccati. Infatti, dice un Salmo che Dio guardò dai cieli e vedeva che nessuno faceva la sua volontà, anzi tutti peccavano, tutti si erano allontanati dalla parola di Dio e dai Suoi comandamenti. Dice che non c'era nemmeno uno che faceva la sua volontà. Così Dio rigettò il popolo. Ma poi fa la chiamata a Giovanni il Battista e Giovanni il Battista dice Popolo, pentitevi, altrimenti le cose vi andranno male e dopo di me arriverà il Messia, il Salvatore, che vi battezzerà con lo Spirito Santo, che vi battezzerà col fuoco. Dopo di me arriva l'inviato da Dio, colui che Dio parlò per mezzo della bocca dei profeti antichi e così Giovanni il Battista cominciò a predicare la parola del Signore. Tanti credettero e si fecero battezzare nel fiume Giordano e in quel modo Dio ebbe misericordia e infatti manda Gesù Cristo, il Salvatore, il Messia, a continuare la predicazione del Vangelo dicendo il Regno dei Cieli è vicino. Il Regno dei Cieli è vicino. Perché? Perché tutti, o perlomeno tanti, si erano avvicinati al Signore. Guardate che tanti altri invece peccavano. E tutto questo, dice il 18, ripeto, sono le cose che provengono da Dio che ci ha riconciliati mediante il Signore Gesù Cristo. E che cos'è che proviene da Dio? Il Vangelo puro del Signore Gesù Cristo. Poi dice nel 19, poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo. Infatti vi ho raccontato prima che tutti erano stati rigettati dalla presenza di Dio. Ma poi Gesù Cristo fece il grande miracolo di venire a riconciliare il mondo o l'umanità, le persone, a Dio di nuovo. Rileggo nuovamente il verso 18. Ora, tutte le cose sono da Dio, provengono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Questo è quello che ha fatto il Signore Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo ci riconcilia a Dio tramite un nuovo metodo per salvarsi, il Vangelo, che Dio avrebbe usato per salvare l'umanità. Perché l'altro metodo, quello antico, cioè la legge di Mosè, fu annullato sulla croce del Calvario quando crucifissero il Signore Gesù Cristo. Da lì in poi, la legge di Mosè fu annullata e nessuno si poteva salvare compiendo la legge di Mosè. Se oggi ci sono persone che dicono che vogliono compiere tutta la legge di Mosè per essere salvi, non si salveranno, non succederà. Perché è arrivato il ministero della riconciliazione, che è il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Ed è l'unico mezzo che ci riconcilia noi a Dio e ci dà l'opportunità di salvarci, ci dà la vita eterna. Questo è il ministero della riconciliazione, credere nel Vangelo, credere nel Signore Gesù Cristo come il Figlio di Dio, come Dio che ha sparso il suo sangue per perdonare i peccati e salvare così l'umanità. Certo, l'umanità che crede nel Signore. Questo è il ministero della riconciliazione, grazie al Signore Gesù Cristo che ha portato la buona novella, il Vangelo puro. E noi ringraziamo Dio Padre per averci dato questa cosa. Verso 19 Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Perciò diceva, Dio ha riconciliato a sé il mondo, l'umanità in Cristo, mediante Gesù Cristo, non imputando o non tenendo in considerazione i falli, i sbagli degli uomini e ha posto in noi, cioè apostoli, maestri, discepoli, i pastori, gli evangelisti, maestri, profeti e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Riconciliati con Dio. Perché oggi giorno anche noi predichiamo la riconciliazione con Dio? Perché anche oggi giorno ci sono tante persone, magari persone nuove, che vivono ancora nel peccato, che sono recenti in chiesa, che peccano grandemente oppure peccano sì in un modo irrilevante perché le persone danno una categoria, un livello di categoria ai peccati. E magari queste persone dicono io ho peccato di adulterio e penso che sia più grave che peccare di bugia. Ma è la stessa cosa perché fa del male comunque distrugge comunque anche il peccato della bugia fa danni. Quindi se ci mettiamo ad analizzare entrambi i peccati fanno del male. Perciò non possiamo categorizzare peccati grandi o peccati piccoli. Tutto è male quindi dobbiamo abbandonare tutto il male affinché Dio si riconcili con noi e che Dio non si è più arrabbiato con l'umanità. Quell'umanità che ha continuato a seguire il peccato e l'idolatria. Quindi nel verso 19 dice poiché Dio ci ha riconciliati a sé mediante il Signore Gesù Cristo e dice non imputando agli uomini i loro falli. Quindi vuol dire che ha perdonato gli uomini. Ha detto sì io ti perdono però tu adesso seguimi non peccare più vivi una vita retta basta peccare abbandona i tuoi 100 200 300 peccati che stavi praticando vieni vieni dietro a me seguimi non peccare più io ti perdono e facciamo finta che tu non hai fatto niente e ci riconciliamo sei mio figlio questo è quello che fa il Signore questa è la riconciliazione e dice ancora l'Apostolo Paolo dice che lui e tutti i predicatori gli evangelisti hanno aiutato le persone mediante la parola del Signore appunto a riconciliarsi con Dio sono stati usati per riconciliare l'umanità a Dio quindi anche noi in un certo modo siamo anche noi degli strumenti nelle mani di Dio e siccome siamo strumenti lui ci dà i doni spirituali come l'imposizione delle mani o quant'altro il dono dei sogni il dono di avere visioni e ognuno di noi abbiamo un devere dobbiamo compiere questo lavoro per poter riconciliare per esempio il mio vicino il mio amico la mia famiglia a Dio per poter dare la possibilità ai miei colleghi o compagni di studio di riconciliarsi a Dio parlando loro di Dio e dire guarda Dio esiste Dio parla le altre persone ci dicono ma com'è che parla sì tramite lo Spirito Santo attraverso la profezia attraverso i doni spirituali allora vieni nella mia chiesa affinché Dio ti possa parlare e così poi tu capirai e cos'è che noi stiamo facendo in quel momento noi stiamo riconciliando queste persone a Dio queste persone che stavano vivendo senza Dio quindi anche noi facciamo questo ministero della riconciliazione compete anche a noi questo ministero così come in quell'epoca competeva appunto l'Apostolo Paolo e tutta la sua squadra di lavoro poi dice nel verso 20 noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo siamo degli ambasciatori come se Dio esortasse per mezzo nostro dice che Dio esortava le persone per mezzo degli Apostoli e gli Apostoli parlavano di Dio e Dio diceva tramite gli Apostoli seguimi cercami e mi troverai acclamami e tutto questo il Signore lo faceva attraverso i ministri che appunto amministravano la parola di Dio che lavoravano per Dio per riconciliare l'umanità a Dio le persone a Dio quindi dice come se Dio esortasse per mezzo nostro vi esortiamo per Cristo siate riconciliati con Dio quindi riconciliatevi con Dio riconciliatevi adesso noi sappiamo cosa significa riconciliarsi con Dio quante persone quante persone vanno in chiesa da 5 10 20 anni 25 e ancora non si sono riconciliati con Dio perché vivono ancora nei loro peccati non hanno voluto pentirsi vanno solamente perché gli piace andare in chiesa perché gli piace una cosa piuttosto che l'altra perché vogliono ricevere profezia cantare perché ricevono delle belle profezie ma loro continuano a vivere nel peccato continuano a peccare allora non si sono riconciliati con Dio ma qui dice riconciliatevi siate riconciliati con Dio e le persone per la prima volta che sono con noi oggi benvenute innanzitutto riconciliatevi con Dio e cominciate da oggi a dire nel vostro cuore nei vostri pensieri dite Signore io voglio vivere una vita retta io voglio seguire il tuo cammino io voglio seguire questo Vangelo io voglio guadagnare la vita eterna voglio godere di tutte le grandezze e splendori che tu hai nella vita eterna per coloro che si salvano io voglio smettere di pecare io voglio smettere con i miei vizi i miei figli soffrono la mia famiglia soffre per la brutta vita che conduco ma io voglio cambiare io voglio riconciliarmi a te io voglio stare con te io non voglio che tu sia arrabbiato con me non voglio che tu sia lontano da me io mi voglio riconciliare aiutami perché io voglio cambiare allora il Signore quando vede in voi questa sincerità nel cuore allora lui dice si cambierò questa persona ti trasformerò dice il Signore perché tu me lo stai chiedendo con il cuore perché veramente c'è desiderio nel tuo cuore di cambiare perciò riconciliamoci con Dio io penso che tanti abbiamo letto questo verso centinaia di volte e non abbiamo dato tanta importanza ho fatto attenzione perché questo verso è molto importante perché qui dice noi siamo ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo di noi vi esortiamo per Cristo siate riconciliati con Dio così diceva l'Apostolo Paolo e c'è anche un inno che dice riconciliatevi con Dio e quando cantate questo inno ricordatevi della riconciliazione che significa allontanarsi dal peccato e amare Dio con tutto il cuore con tutta l'anima convertirsi a Dio 21 poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio e Lui qui vuol dire poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato il Signore Gesù Cristo non ha conosciuto peccato ma si è sacrificato per noi ecco questo ha fatto il Signore Gesù Cristo vi ricordate quando il Signore Gesù Cristo incontrò quel giovane che gli disse io ho compiuto tutti i comandamenti ma il Signore gli disse te ne manca uno sei avaro sei ambizioso e il Signore Gesù Cristo disse a quel giovane vendi tutto quello che hai e regalalo ai poveri e quel giovane fu molto triste perché era molto ambizioso avaro non gli piaceva aiutare i bisognosi non aveva amore per il prossimo voleva tutto per se stesso quindi quello è un peccato per esempio e quel giovane non si era riconciliato con Dio quindi qui dice poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato come quel giovane ha detto io non ho non ho nessun peccato ma in realtà qualcosa gli mancava non aveva riconosciuto tutti i peccati infatti lui era avaro ambizioso e che non era per nulla misericordioso quindi non conosceva quel peccato occulto che aveva in sé non l'aveva scoperto e poi dice affinché noi predicatori della buona novella di salvezza gli evangelizzatori che siamo noi affinché noi fossimo stati fatti giustizia di Dio in Lui quindi noi vi diciamo guardate che la legge di Mosè per esempio non è il cammino della salvezza oppure se tu dici di aver compiuto tutti i comandamenti prova a pensare se in te ci sono dei peccati occulti perché ti manca sicuramente qualcosa credere per esempio in Gesù Cristo come l'inviato di Dio come il figlio di Dio come il vero cammino che porta alla vita eterna ti manca credere in questo per esempio quindi in quell'epoca coloro che stavano davanti all'Apostolo Paolo erano anche coloro che volevano continuare a compiere la legge di Mosè ma l'Apostolo Paolo diceva adesso sapete che state sbagliando e perché allora non volete accettare o credere il Signore Gesù Cristo il Salvatore questa buona novella di salvezza questo nuovo metodo per salvarsi allora l'Apostolo Paolo dice ecco l'incredulo che non vuole ubbidire non vuole ubbidire o accettare questo nuovo metodo di salvezza perché è l'unico Gesù Cristo è l'unico che può salvarci lui è il cammino la verità e la vita è l'unico cammino che ci porta alla vita eterna quindi l'Apostolo Paolo diceva noi vi stiamo dicendo questo vi stiamo insegnando questo riconciliatevi con Dio nel capitolo 6 continuo a parlare di questo tema ma lo lasciamo per la prossima domenica se Dio me lo permette e continuo a parlare del ministero della riconciliazione cioè riconciliare l'umanità a Dio secondo l'opera evangelizzatrice che il Signore desidera perché anche noi stiamo evangelizzando e le persone che per esempio oggi ci stanno ascoltando bisogna imparare che c'è un solo cammino che c'è un solo cammino e che se nell'antichità c'erano vari cammini che si diceva che portavano alla vita eterna non è così perché il Signore ci ha dato un cammino Gesù Cristo Lui è il cammino la verità e la vita quindi dobbiamo imparare tutta la dottrina essere sinceri e convertirci al Signore affinché Lui ci invii lo Spirito Santo perché è lo Spirito Santo che entra in noi entra nella nostra vita nella vita di uomini e donne entra entra per liberarci trasformarci affinché si viva una vita santa eretta cosicché da riconciliarci con Dio e avere quindi Dio nella nostra vita nel nostro cuore che Dio abiti in noi e questo sì che si riesce ad ottenere la gente dice che è impossibile oggi che è impossibile che Dio parli perché tutti sono peccatori allora la gente dice ma com'è possibile che Dio parla alle persone che sono peccatrici e le usa per parlare ad altre persone certo voi avete visto tante cose nel mondo ma noi abbiamo anche visto che il nostro Dio di amore ci ha fatto riconciliare a Lui e poi ci usa quindi anche voi riconciliatevi con Dio questo vi stiamo dicendo che lo Spirito Santo è incaricato di fare quest'opera meravigliosa in noi è lo Spirito Santo che fa il lavoro lui è il supervisore lui fa bene il suo lavoro e guarda chi è sincero chi no chi lavora bene per il Signore chi no è lo Spirito Santo che è nella congregazione che vigila che guarda e chi non è sincero il Signore gli dà un'opportunità gli dà del tempo ma poi lo caccia anche dalla Chiesa se non si converte e se non si riconcilia perciò quello che noi oggi stiamo predicando non è opera o volontà di essere umani bensì un piano di Dio un piano divino perché Dio più di 50 anni fa ha fatto una promessa ad una famiglia e Dio fino ad oggi ha continuato a compiere alla lettera la sua parola perché Lui è il Dio onnipotente ecco perché crediamo in Lui ecco perché io vi predico di confidare in questo Dio che è vero che è l'unico che vi condurrà alla vita eterna a vivere felicemente con Lui e che vi trasformerà già a partire da qui sulla terra e vi trasformerà in uomini e donne felici senza fare del male a nessuno vivendo nell'onestà nella sentità nella rettitudine e Dio abiterrà nei vostri cuori cos'altro desiderare fratelli e sorelle cos'altro volere vi invito a disporre il vostro cuore e a riconciliarvi col Signore bene che Dio vi benedica tutti grandemente adesso preghiamo il Signore benedetto Padre Celeste grazie eterno Dio grazie Signore per la Tua parola grazie Signore perché ha inviato Gesù Cristo il Signore della gloria l'ha inviato per farci riconciliare a Te Signore grazie Padre mio perché è grazie al Signore Gesù Cristo che Tu ci guardi e che ha misericordia di noi Tu ci ascolti Tu Signore ci tendi la Tua mano potente e ci benedici ci liberi ci guidi ci orienti Tu fai tanta attenzione nei nostri confronti grazie Signore le nostre preghiere pertanto non risultano vane perché Tu le ascolti perché Tu conosci vedi le nostre situazioni la nostra vita le nostre tribolazioni difficoltà le nostre paure tristezze malattie Tu vedi Tu vedi tutto Signore Tu lo vedi Padre Santo e Signore oggi ti chiedo appunto siccome Tu sei questo Dio di amore che vede tutto un Dio di misericordia e di perdono Tu sei un Dio potente che guarisce che libera Tu Signore sei questo Dio Tu sei un Dio potente e allora ti ringraziamo per questo grazie Padre Santo perché Tu Signore sei sempre attento a stendere la Tua mano potente sui malati sulle persone che soffrono di tanti dolori nel loro corpo ti chiediamo Signore di togliere i dolori di togliere tutte le sofferenze tutti gli acciacchi ci sono persone che ti acclamano e ti cercano e ti chiedono misericordia guarda i dolori di queste persone distruggi l'opera del maligno togli il Signore tutte le malattie ascolta le preghiere di coloro che ti acclamano per essere guarite per ricevere miracoli guarigioni segni ascolta inoltre le preghiere di quelle persone che ti acclamano e che ti chiedono protezione che ti chiedono lavoro una casa proteggeri dai pericoli dalle minacce da tutto il male da tutto quello che vivono nella loro vita perché sono vittime del male del maligno che vuole rubare la fede e la fiducia in te Signore abbi misericordia di tutte queste persone stendi la tua mano potente su tutti coloro che sono vittime della stregoneria dei malocchi vittime delle maledizioni del diavolo delle magie di tutti gli stratagemmi che il diavolo ha perché il diavolo usa tutti i suoi mezzi e noi ti chiediamo di spezzare tutte queste catene tutti questi lacci di distruggere il male e di ascoltare tutti coloro che ti stanno acclamando Padre mio grazie al tuo amore e alla tua misericordia ti ringraziamo perché tu sei un Dio di amore di potere noi sappiamo che la tua misericordia è in eterno e che le tue promesse sono fedeli e veraci e che si compiono nella nostra vita ecco perché Signore ti chiediamo di ascoltarci di pulirci di liberarci grazie Padre Santo ti chiediamo nel nome glorioso di Gesù Cristo tuo figlio amato il tuo aiuto ti chiediamo tutte queste cose in nome suo grazie Signore per ascoltarci l'onore e la gloria siano per te Signore nel nome di Gesù Cristo tuo figlio amato grazie Signore perché ci ascolti sempre perché sei sempre vicino a noi l'onore e la gloria per te Amen gloria al Signore cantiamo al Signore il coro che dice non a noi non a noi o eterno non a noi non a noi o Jehovà non a noi non a noi o Jehovà non a noi non a noi o Jehovà non a noi o Jehovà non a noi o Jehovà sino a tuo nome da gloria gloria aleluia por tu misericordia e tu verità gloria al Signore che Dio vi benedica a tutti e nuovamente vi chiedo scusa vi chiedo scusa per diciamo questa malattia pregate per me bene pregate per me che Dio vi benedica vi amo con tutto il mio cuore tanti baci per i bambini e tanti abbracci per tutti voi grazie del Signore vi benedica